Il nostro giappuccino, diciamo, è inforgente, fino alla conca della riciclita, diciamo, alla conca che è sempre bene. Lì lo vissi passare spesso. Lì lo vissi passare spesso. No, no, seguivano. Comunque lo sai che facevano? Seguivano una linea fino a mezz'aria sotto il punto indirettamente. Poi già stavano per andare verso la forzetta. Sì, e guarda che dico che quando andiamo in forzente non si fanno proprio problemi. Io sono sotto, loro, molte volte, se c'è a me che allunga, non so se c'era detto che sono sopra di noi, che bevono e stanno giù, insomma. Esatto, esatto. Dove prendiamo l'acqua? Loro diciamo che non stanno proprio a quella testa, perché da dove prendiamo l'acqua c'è tutta la colata che viene dall'altro. E ci sono delle rocce. No, esatto. E praticamente sono a metà tra la forzente e poi la linea del sentiero che passa al Gerone, lo sapete?